ragazzi siamo tornati in realtà non mi ricordo come si faceva ad attivare la registrazione senza toccare esiste uno shortcut un movimento veloce per la sinistra ci sono ci sono classico ok comunque sono papi e questa sera giocheremo a napoli a napoli si a fifa 24 e a fifa 24 napoli monza quindi faremo la partita che andremo a disputare domani sera al maradona dove dobbiamo andare non ci vado di più perché non abbiamo trovato i biglietti erano rimasti solo settori inferiori e si vede una fetenzia che poi c'era due si cambierà una cosa togliosi me perché così ma già sta in l'africa mette assieme ora si è fatto spegnere apposta secondo me arrivano tutti quanti per andarsene via infatti ha chiesto due giorni più messi e già sono andati in africa il 13 parte per la coppa d'africa praticamente ora torno fra un mese e mezzo perciò mette assieme ora che non ci interessa ma era va bene lo zano togliono non gioca manco più con noi e mette a politano no non credo togli pure elmas perché non gioca più con noi la luoghia togliela perché non ce l'abbiamo più andata lì si aspetta zerbino 71 al fianco si è servito a ok allora vediamo politano signore cavaschere un bel trio poi vediamo se gli schizambo va bene lo botte lo colano dire di fare un 352 32 giù 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 mai trova il 35 giu vai che poi eccolo qua che all'occorrenza diventa un 5 3 2 vai 3 5 2 esatto e all'occorrenza diventa un 5 3 2 vai dobbiamo vedere le disposizioni in campo com'è aspetta pressione squadra quindi abbiamo ok ma chi ha fatto questo cambio scusa mettono di amare lui e metterla al posto di cavara scherzo sposta al posto di cavara ok poi politano esatto poi al posto di seri scritta politano si viene al posto politano pure va bene in realtà nel contrario perché si vede una punta quindi si vede al posto di cavara si vede al posto di cavara ah la 1 pensa che la sentrà va bene così la panchina così ci chiamiamo andiamo a vincere siamo da noi ancora devi cominciare mamma la partita però non si con il Napoli e Monzaio domani 4 a 0 per il Napoli domani siamo giocati domani abbiamo un sacco di infortunati per me 2 a 0 due espulsi non gioca né politano né Rosimena che come abbiamo detto già è Napica no vabbè questa partita finirà 4 a 0 per noi secondo me in realtà finirà 2 a 0 a Giurri non lo so non è così facile guardate che il Monza è una squadra di rivelazione eh ma poi ha perso con la Fiorentina con il Milan e il Cavani e noi abbiamo perso con tutta l'Italia tua vai e dai fammelo grossare oh voi vai che è nostra vai Napolicano vai tua pertila in mezzo ci sto vabbè tiro Maron mi sono preparata ma chi è il suo portiere biondi oh ce l'ha visto che c'era lo sponsor della Motorola il telefono mi sono comprato con io vai la città eh c'è di Gregorio il portiere si non direi cosa che hanno fatto la carcione si hanno fatto pure un'intervista su Dazzana di Gregorio ci sto ci sto ci sto in mezzo in mezzo auto rete nooo 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 stiamo attuando qua stiamo attuando qua stiamo attuando qua metti in mezzo vai tira eh vabbè ci sei? sto qua eh se mi fa passare eh ma guarda ma questo è fallo l'oretto mi ha proprio trattenuto lui alla grandissima me l'ho presa palla e dai dai presa vai presa la donna però ma che vuoi l'ha messa? è un contrasto con le voici l'abbiamo presa con calma con calma con calma tu vai mettile in mezzo ci sto getto te l'ho detto fallo giocare a Giovanni che non sbaglia mai poi c'è il 18 che mio lavoro ha fortunato ma c'è il 18 che ti ha spiegato no perché il 18 che noi siamo scusati noi il mio lavoro ha fortunato ah quando siamo andati a casa abbiamo un giocco di soldi con 18 lo sai? ah eh sulla nave petagna perché c'è ancora petagna? eh no questi sono ancora ok non stai il terza è buono è buono è buono buona tua paritano vai vai che buona si? no che palloretta eh infatti ho fatto un passaggio un po' con la petizia ma la piglietta la hai tolta ma cosa sta ripetando? quello non sta a Cagliari no ma ora si tratta dai mercati giugno è difficile ah scusi sto dalla filtrante vai l'hai fatto filtrante? eh ne pensa non avevo capito che pensavi di tu presa vai siamo 3 contro 1 non sbagliare non sbagliare non sbagliare e non sbagliare e hai sbagliato stai zitto non sbagliare e hai sbagliato la devo passare l'anno primo però devi passare venti giorni più no devi passarlo no presa vai te l'ho data buona ci sto sulla fascia filtrante vai ottimo vai eccomi lo scarico fratello che è gooo te l'ho detto che scaricavo a zambo muoviti c'è un po' di tutti qua non c'è più di tre non c'è più di tre cinque come quest'anno ma secondo me non so solo perché non gli riescono così tanti in un altro si era fatto la extension finita finisce il primo tempo e vinciamo non recupero 2 a 0 come ho detto io stai in medio ho detto 4 a 0 due primo tempo due secondo tempo ce la possiamo fare io ho detto 2 a 0 fammi vedere le statistiche va bene così? no dati di partita devi andare dopo alla fine voglio vedere il primo tempo com'è andata va bene la vediamo al video eh va un po' di patate vediamo ora dati di partita vai dati di partita vediamo ci abbiamo un 54 lo ce l'ho stesso ma pensavo di più sette recuperi palla ci tiri 5 a 1 gol previsto 1,7 passaggi 30 a 10 a 9 li abbiamo massacrati oh hanno avuto più contrasti di noi eh no no noi abbiamo avuto più contrasti no loro 6 e noi 5 fratello che dici? no contrasti noi 2 e loro 1 ah contrasti fatti voi vinti 2 ok però intercettazione siamo 5 a 1 per loro cosa non costruiscono intercettate vuol dire che quando noi abbiamo passato loro hanno intercettato il pallone vabbè intercettato è che l'hanno preso sono riusciti a raccoglierlo vai 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 andiamo a fare altri due vuoi finire 4 a 0 questa partita un 0 se non mi dà se non facciamo almeno 4 gol ci sto ci sto ma che gliela dai io ho fatto un filtrante che vuoi oh in me go madonna ma che vuoi sto solo davanti al portiere è sciocco ma no non me la messi più non c'è più sì che te la do ma tu stavi coperto io sto solo davanti al portiere che fa non tiro ma stai scherzando ma passo ma io ho l'istinto killer dell'attaccante ma scherzi oh guarda questi come ci cischiano guarda come ci cischiano ci cischiano madonna che parata di alex ci salva hai visto lo sponsor del motorolo con il mio cellulare sì ragazzi io ci cischiano oh mamma mia che tiro ma ci siamo ci siamo no è passata pigliala c'è la prossima pigliala pigliala no madonna la piglio io la piglio io guarda questo ho tirato con la forza sto in fame non la sembra che stai caricato con la forza mamma mia che è buono è buono non è fuori gioco te lo darà benissimo tira ma no puoi passare puoi tirare puoi fare qualsiasi cosa e non fai niente è la passata è la passata che vuoi ma guarda questo che ci gira Antonia presa no è fallo no che fallo è è il giallo è il giallo le patate le cipolle i fagioli la hai questo ha pure dato il giallo si non va bene così non va bene porta fallo vai no io ho fatto filtrante si ma filtrante lo devi fare quando c'hai la possibilità di farlo poi non serviva perfettamente niente vai ah no che fallo è? fallo ma questo è impazzito ma che ha fatto cosa? ma questo è impazzito un fallo proprio il possibile vabbè da questo che tira la posizione assurda che stava pure segnando non lo stavo giocando non lo stavo giocando non lo stavo da dimenticare eh te lo voglio dire eh non lo stava per forza segnando ma noi abbiamo messo fili in cascina nel primo tempo è normale eh oh mamma mia eh dai ma manco uno stop no poi mi sono squisciato basta mi sono squisciato basta via sta pallo via sta pallo andiamo alle massacare questi idiosi ma che fa questo? si può trattare da solo ma è impazzito almeno il terzo dobbiamo fare se non insegnano loro che hanno messo pure un palo vai che buono vai con calma con calma ragiona ora bravo fatti vedere in mezzo ci sei? si vai eh guarda ci sei ma non ci state più se l'ha buttata fuori un tiro che non ti ha vista almeno io tiravo a suo punto la mettevi in mezzo ho messo in mezzo non ti la dato perché non l'ha visto nessuno ecco no Rosetta con il cross eh il cross come fai a farlo ci metti più tempo e non ce lo facevo stavi troppo a attaccarci con calma ragioniamo tira 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 non tira in mezzo eh vabbè ti ho detto parata straordinaria niente di meno stanno perdendo stanno abbuscando buona non la perdere zio cari madonna che fallaccio buttalo fuori 88esimo qua c'è se facciamo un altro gol ma penso che non lo facciamo tira 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 eh vabbè però no no però io ho premuto il tiro non so perché ma tu questo passaggio assurdo forse che stava fuori aria mh se la possiamo fare a farlo un po' dai finita eh sì già eh vabbè posso dire una cosa è vero che il secondo dio è stato un poco sotto l'aspettativa ma comunque abbiamo portato a casa un ottimo 2 a 0 io ho detto che finiva la cosa ma magari vincissimo così anche domani sera voglio dire 1 chi ha vinto e ha segnato? a chissà? il secondo il primo? il primo Simeone Simeone ok quindi che dobbiamo fare adesso? la lazza qui c'è stata una parata di Gregorio poi un altro tiro di Simeone no ma questo qua l'ha salvato sulla porta sulla porta millimetri non centri millimetri no vada la è entrato mezzo pallone incredibile vada questo come l'ha salvata vabbè questo invece è il gol di Giovanni colpo di testa grande cross arriva in corna questo è il gol come l'ha fatto contro la Milano però al contrario però il Milano veniva dall'altro lato il cross Zambu quello uguale contro l'ordinese contro l'ordinese Zambu che tira da pure la vette dall'angolino grande parata di Alex petagna petagna no no grande parata e basta non ci sono più emozioni ragazzi è stata un po' scarsita vabbè mi raccomando se il video vi è piaciuto un bel like e iscrivetevi al canale sempre 096 ci vediamo al prossimo video ciao da papi dobbiamo fare la foto per la copertina ok e come la facciamo? fai partire il video? facci solo vabbè anche così con lì metti le squadre dai metti i punzi dall'alto là che facciamo la copertina eccolo qua vai no così vai ciao a tutti ciao ciao